Federico, intanto come stai? Meglio, meglio. Stiamo lavorando bene sul mio recupero. Ci prendiamo ancora un po' di tempo per recuperare il 100% e spero di essere in campo prima possibile. Cosa è successo? Abbiamo avuto una piccola ricaduta sull'infortunio precedente e appunto adesso prendiamo un po' più di cautela. Quando in campo a Cornero? Spero prima possibile. Adesso non c'è una data definitiva. Due settimane possono bastare? Ma vediamo dai. Due o tre settimane secondo me potrei essere in campo. Ti manca il campo? Sì, tantissimo, tantissimo. Soffro vedendo le partite, sono contento di come sta andando queste ultime settimane per le vittorie, per come stiamo giocando e appunto sostengo sempre la squadra. Derby con il Pineto, che partita ti aspetta? Aspetto una partita fatta in modo giusto, con l'atteggiamento giusto dalla mia squadra e speriamo di vincere. All'andata ci fu un errore individuale punito da Gambale. Ritorno che partita deve essere? Ma sicuramente più attenta dell'andata, con più concentrazione e più approccio vincente secondo me. L'ultima Federico ti aspettavi da giovanissimo questo tuo impatto così importante tra i grandi con Zeman? No, non me l'aspettavo, però punto sempre a fare il mio meglio e adesso vediamo l'ultima parte di stagione, cosa succederà.